Rigenerazione è l'obiettivo con cui viene lanciata la variante approvata dalla Giunta di Vicenza per valorizzare il recupero degli edifici abbandonati. Prevede la rifunzionalizzazione di alcuni luoghi bui, abbandonati o sottoutilizzati della città. Sono luoghi che si trovano all'interno dei quartieri, che generalmente erano destinati ad attività produttiva e che sono abbandonati e chiusi da anni e che con una nuova funzione di residenza complementare possono avere nuova vita e quindi anche togliere degrado alle zone in cui esistono. Allo stesso tempo però viene chiesto una riduzione rispetto al carico urbanistico precedentemente previsto e anche una dotazione di servizi ai quartieri in cui si trovano, soprattutto di parcheggio o di verde pubblico. Sette gli interventi di rigenerazione previsti dalla variante in Viale della Pace, in Viale Crispi, in Via Battaglione Val Vestone, in Via Brotton, in Via Legione Antonini e in Strada Pasubio. Un modo anche per ridurre il degrado, ridando luce e vita agli angoli bui della città. Quello che è previsto è proprio una rifunzionalizzazione ad uso residenziale, l'investimento ovviamente a carico del privato che però, pur di poter rimettere mano al proprio patrimonio, ha anche accettato una riduzione delle cubature. Insomma, si riqualificano dei vecchi complessi produttivi ormai abbandonati, riducendone le dimensioni e facendone case, palazzine, composteggi e verde pubblico. Da qui il nome della variante, rigenerazione. Attivare quindi nuovi processi di investimento all'interno della città, al contempo però dotando di servizi. Grazie. 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 Grazie.